Allora Roberto, penso che ti manderanno in Europa a trattare con i tedeschi perché ormai l'ha eliminati tutti, hai con sofferenza, però sei stato davvero in gran spolvero questa sera e adesso la finale, era da un po' che non arrivava un italiano in finale qui a Gozini e ci arrivi tu. Bene, sono doppiamente felice, ho appena finito non l'ho ancora ben realizzato perché infatti ti ho chiesto quanti match point ho salvato, è un momento così, anzi adesso è un momento bello, sono in fiducia, mi sento bene ma devo dire gli ultimi due o tre mesi non sono stati in linea con la prima parte di stagione e adesso sono molto molto soddisfatto di questo torneo. Adesso vediamo, dai domani in finale, speriamo di continuare così, anzi possibilmente non salvando prima stagione. Non soffrendo così perché il pubblico onestamente non ce la faceva più perché due ore e un quarto di match è combattutissimo dal primo game all'ultimo. Eh ma vuoi mettere scusa che vincere 6-1, 6-2, che divertimento c'è? No dai, a parte degli scherzi sono contento e niente, andiamo avanti così. Poco lupo per domani.